Futuro in Italia o all'estero? Intervistando alcuni studenti delle scuole superiori della regione Piemonte, siamo giunti alle seguenti conclusioni. Verso quale università all'estero in Italia saresti orientato dopo le scuole superiori? La scuola vorrei continuare a studiare, quindi fare l'università. Preferirei farla in Italia, mentre per un lavoro magari spererei qualcosa all'estero. Tipo negli Stati Uniti come nei grandi film, diventare famoso o qualcosa del genere. Tra il 2015 e il 2016 gli iscritti alle università italiane sono stati circa 270.000, ma ci sono scarse proiezioni verso il lavoro. Ogni anno 60.000 italiani si iscrivono all'università all'estero e 18.000 partecipano all'Erasmus, imparando una nuova lingua e una nuova cultura. I paesi più gettonati rimangono Gran Bretagna, Germania, Svizzera e Francia. Non so ancora bene cosa farò dopo, ma molto probabilmente andrò all'estero. C'è più possibilità di lavoro, gli stipendi sono più alti ed è comunque una bella esperienza. Dai dati raccolti abbiamo ricavato che quasi tutti gli intervistati abbiano espresso il desiderio di proseguire gli studi all'estero. E tutti sono intenzionati a ricercare un lavoro nei paesi esteri. Difatti circa la metà dei giovani italiani è pronta a lavorare nei paesi stranieri. La causa di tutto ciò è che in Italia il lavoro venga sottopagato, circa 3 milioni di persone siano disoccupate e si è difficile trovare una sistemazione lavorativa sicura e inerente agli studi eseguiti. Questa situazione ha provocato negli anni passati, ma anche tuttora, uno scoraggiamento tra i giovani. Infatti nel 2015 si è constatato che solo 3 studenti su 5 portano a termine l'università e conseguono una laurea italiana. E tu sei orientato verso i paesi stranieri o resti in Italia? Questo è tutto dai Senza Identità.